tier list completa fase 4 finalmente ci siamo finalmente facciamo un resoconto di questa fase 4 che è stata molto chiacchierata e questa tier list avrà diciamo le seguenti categorie due in particolare ci sarà un posto per la migliore fase 4 e un posto per la peggiore fase 4 quindi in questi due spazi uno farà schifo e uno sarà il migliore partiamo partiamo si parte da Thor Love and Thunder allora io questo film l'ho apprezzato tantissimo molti non saranno d'accordo già con questo inizio ma per me Thor Love and Thunder va in ottimo intrattene benissimo ha una buona storia bei personaggi attratti ha delle battute sicuramente un po' troppo fastidiose un po' eccessive ma nel complesso il film si tiene secondo me assolutamente in piedi e mi ha divertito tantissimo sarà sicuramente criticata questa scelta ma io resto fedele resto coerente a quello che ho detto anche nella recensione quindi lo metto in ottimo raga mi ha divertito mi è piaciuto io non l'ho trovato eccessivamente ignorante ci sono altri film che hanno fatto peggio quindi per me se ne va assolutamente in ottimo Thor Love and Thunder Bandavision va in buono va in buono perché comunque le intenzioni diciamo buone c'erano parte alla grande questa serie parte in maniera molto interessante puntata dopo puntata il tutto si fa più intrigante il finale però lascia molto 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 a desiderare crea delle aspettative un po' fasulle diciamo mette in mezzo robe che sembrano legate al multiverso per poi tradire un pochettino lo spettatore quindi diciamo che il finale come già detto anche nella recensione di qualche anno fa ha fatto crollare un po' tutto quindi facendo diciamo un bilancio tra finale e la serie totale buono direi che è più che accettabile guardia da galassia speciale di natale lo speciale di natale io lo vado a mettere in ottimo perché questo speciale fa quello che deve fare cioè riesce ad intrattenere riesce a divertire su appunto questa situazione natalizia no dove Drax e Mantis cercano di sollevare il morale a Peter Quill per la scomparsa di Gamora per il fatto che Gamora non c'è più anche se in realtà c'è ma non è la sua Gamora e funziona grande è divertente Drax e Mantis in certi momenti mi hanno proprio fatto ridere quindi ragazzi lo speciale funziona James Gunn come al solito fa centro e c'è poco da fare ma mi è piaciuto proprio parecchio Eternals carino ho apprezzato la voglia di proporre qualcosa di nuovo ho apprezzato insomma questo cambio questo qualcosa di diverso di nuovo fresco ma nel complesso è abbastanza lento Nel complesso insomma non è un film che ho riguardato un film che ripenso è un film che certe volte mi dimentico eh cioè veramente si vede che nonostante la voglia di fare qualcosa di diverso questo diverso non ha tanto funzionato alla fine dopo un annetto che è uscito completamente dimenticato quindi carino carino perché lo apprezzo per l'aver provato qualcosa di diverso che a tratti funziona anche a tratti funziona anche ma non del tutto quindi Vada per carino black widow brutto black widow brutto ragazzi una schifezza allucinante noiosissimo pallosissimo una storia inutile una storia che arriva anche un po tardi per inserirsi nell'MCU ma non è tanto il punto di quando si inserisce questa storia ma è proprio una palla è proprio una palla Cioè l'inizio diceva sembra carino poi ma taskmaster che non si può guardare il solito villain dimenticabile no ragazzi brutto 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 non mi è piaciuto per niente Shulk eh si ragazzi Shulk va in peggiore fase 4 Shulk ha fatto qualcosa di inaccettabile cioè veramente un finale che non ha il minimo senso capisco rompere la quarta parete ma quello che ha rotto Shulk sono state le palle perché veramente una storia che non va a parlare da nessuna parte una storia che non viene mai sviluppato una storia che non è storia Cioè una serie che veramente non ha avuto il minimo senso ed è un peccato perché io ci puntavo parecchio su questa serie perché dei trailer che sono stati ingannevoli sembrava molto ma molto meglio alla fine ragazzi una delusione allucinante Occhio di Falco Occhio di Falco è tra il buono e il carino serie anche questa che funziona per carità funziona ma anche questa ragazzi c'è una serie che certe volte me la dimentico proprio cioè mi ricordo che ogni tanto quando abbiamo cercato di ricordare i vari progetti della fase 4 Certe volte dicevo aspetta che altro c'è e Occhio di Falco non mi veniva mai in mente quindi è stata carina perché funziona è una serie che comunque c'è la sua trama tranquilla carina Però c'ha i soliti villain così che non ti dicono mai niente quei soliti villain usa e getta proprio ripeto si lascia seguire ma non è niente di che per questo mi viene da dire carino Buono ragazzi per metterlo in buono doveva darmi quel qualcosa in più certo c'è Kingpin alla fine molto figo però non è che per Kingpin adesso gli diamo l'Oscar diciamo carino dai carino ci può stare Carino anche I am Groot I am Groot carino fa quello che deve fare sono piccoli cortometraggi ci sta nulla da dire in più Loki Loki se ne va in buono anche Loki perché nel complesso magari qualcuno dirà no ma Loki è il mio di WandaVision Ma in realtà nì nel senso che funziona Loki è la serie più interessante che abbiamo visto dell'MCU perché comunque introduce tutta la storia del multiverso Dei viaggi tra i vari universi si salva forse più che altro per la presenza di Kang e per appunto il concetto del multiverso Perché poi nel complesso c'è tutta quella parte tra Sylvie e Loki che non è che sia proprio super iper mega interessante e poi il multiverso ragazzi è totalmente incoerente tra un progetto e l'altro Quindi la serie di Loki dopo certi progetti risulta anche inutile sotto certi aspetti però introduce Kang Introduce il multiverso alla fine è buono cioè nel complesso comunque non è stata una serie che mi ha deluso quindi buono è ok What if Raga io what if lo metto in brutto i disegni non mi piacciono per niente la maggior parte delle storie non mi sono piaciute Bello Marvel zombie Dr. Strange quella su Ultron Però poi ci sono puntate come quella su Capitan Carter che mi ha annoiato Cioè si era carinamente di che Poi quella su Thor E altre che neanche mi ricordo più Ragazzi what if Progetto animato che sinceramente No Io non riproporrei una seconda stagione La faranno Ma onestamente per me no Per me potrebbero anche lasciar perdere Anche perché ripeto la cosa peggiore Non solo sono le storie ma pure i disegni che non si possono guardare Sembrano fatti di non lo so Plastilina scadente No per me è no Miss Marvel Brutto pure Miss Marvel Sembrava quasi salvarsi Miss Marvel All'inizio poi diventa una cosa annoiosita Una cosa che non ha senso Poi incoerente Poi introducono il concetto di mutante Che non c'entra assolutamente niente No Miss Marvel una cagata eccezionale Una cagata eccezionale Segnatevi una cagata eccezionale Poi il finale peggiora ancora di più le cose No 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 Assolutamente bocciato Wakanda Forever Wakanda Forever Buono Wakanda Forever buono Mi è piaciuto Ha saputo diciamo Reggere la mancanza di Chadwick Nonostante giustamente un po' si sente Perché è una cosa che come già detto È stata forzata Perché giustamente Con la morte di un attore come fai Però sono riusciti dai Nel complesso a tirar fuori una storia carina Una storia che comunque nel complesso si regge Non è niente di eccezionale Però si regge Si regge e non era scontato Perché comunque senza la presenza di Chadwick Potevano fare una bella porcata Quindi buono direi che ci può stare Falcon and Winter Soldier No raga Falcon and Winter Soldier Per me è brutto Anche su questo Magari molti non sono d'accordo Ma è stata una rottura Di coglioni Pazzesca Anche qui Villain Dimenticabili Falcon raga A me non mi piace Veramente Mi fa proprio scendere Le palle a terra Veramente Non lo sopporto Bucky più o meno Più o meno Ma nel complesso per me non regge proprio Già la prima puntata mi sembra che non mi era piaciuta Quindi già come sono partiti Lasciamo perdere Ma poi non serve a niente raga Non serve a niente Perché è un'intera serie Per dimostrarti che Falcon diventa il nuovo Capitano America Quando in Endgame aveva già accettato lo scudo Quindi perché in Endgame accettano lo scudo E poi fanno la serie su Falcon Per diventare Capitano America Non ha senso Proprio una cazzata allucinante Questa serie nasce perché Perché poi devono fare il classico messaggio Che Black Lives Matter Praticamente Capisco ci sta pure per carità Però se me lo fai così Si vede che è proprio una forzatura Perché dopo il finale di Endgame Non era affatto necessario secondo me Moon Knight Moon Knight Lo metto in carino Purtroppo ragazzi Da Moon Knight Cioè veramente avevo delle aspettative altissime ragazzi Moon Knight per me doveva essere la miglior serie dell'MCU Io Moon Knight l'avrei messo in migliore a fase 4 Ma raga Cioè è stato veramente Una cazzata Quello che abbiamo visto Potrebbe essere sviluppato molto meglio Moon Knight si vede pochissimo Tutta la storia È legata Alla sua doppia personalità Che poi diventa anche tripla Non è che funziona tantissimo E a tratti anche un po' noiosa Carino Il massimo che riesco a dire È carino Si poteva fare molto 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 di più Non è a livelli di Miss Marvel Falcon What if Black Widow Però veramente Moon Knight Veramente un peccato ragazzi Veramente un peccato Werewolf by Night Werewolf by Night Lo mettiamo in buono L'Icantropus Special che funziona Special molto carino Anche qui si sente un po' Quella sensazione di nuovo Quella sensazione di Marvel Che tenta E sperimenta qualcos'altro E nel complesso ci sta Però non è che mi ha fatto particolarmente impazzire Cioè Ho Ha provato Diciamo Lo sforzarsi Di voler fare qualcosa di nuovo Però non è Che sia stata Sta grandissima cosa Però carino Ho apprezzato L'idea Spero che si possa fare meglio Però in futuro Shang-Chi Carino A me è divertito Aveva comunque Tutta questa Ambientazione Cinese In questi appunto Ambienti cinesi Che comunque anche qui Un pizzico di Nuovo Pure si è sentito Poi gli effetti speciali erano fighissimi C'era quel drago Che era veramente molto bello Lo scontro col padre Finale con Shang-Chi Ci sta I personaggi erano simpatici La trama non era niente di eccezionale Però secondo me Nel complesso Shang-Chi funziona Cioè nel senso Non punta a fare nulla di Eccezionale Però il suo lo fa Cioè non è malvagio Secondo me Molti l'hanno detestato Ma secondo me È un film caruccio alla fine Che si lascia guardare Almeno una volta Poi magari due volte no Ma la prima volta ci può stare Dottor Strange ragazzi Miglior film Miglior progetto Della fase 4 A mani bassa Raga Ma c'è bisogno anche di spiegare perché Perché c'è Remy Ma non lo dico perché sono di parte Lo dico perché Cioè È così Nel senso Ha fatto un film Che nonostante La Marvel abbia frenato E si vede perché poteva fare Anche meglio di quello che ha fatto Il film intrattiene Cioè Tutta quella cosa con banda Che ha tratti anche Mezza horror C'è pure il multiverso In mezzo Illuminati Funziona tutto ragazzi Funziona tutto Le atmosfere Gli ambienti È stato semplicemente Il miglior progetto Della fase 4 Remy è sempre Remy Allora Poi rimane lui ragazzi Rimane lui Il film del canale Il film Che ha fatto discutere Il film che O fa schifo O è bellissimo Spider-Man No Way Home Dove lo mettiamo Spider-Man No Way Home Mettiamola in buono Perché comunque È un film Che Va premiato Per il fanservice Che comunque Ci ha fatto impazzire Ci ha fatto stare lì Un anno Tra rumor Cioè comunque Per l'esperienza Io lo voglio premiare Quindi Lo valuto In maniera un po' diversa Dagli altri Perché Perché comunque Ragazzi Il ritorno di Meguera e Garfield Lo aspettavamo Come l'ha venuto Del signore Quindi Non si può Cioè ragazzi Dire che il film Non è emozionato È mentire Perché il film Ha emozionato Nonostante Sia stato fatto col culo E dopo tanto tempo Sono usciti fuori Un sacco di difetti Però Il film è emozionato Cioè Io non posso ignorare Il fatto di essere Arrivato lì al cinema Di aver goduto Della prima visione Raga Comunque L'esperienza Non si può Assolutamente ignorare I problemi Ci sono stati Ci saranno sempre Però No Way Home È stato qualcosa Cosa di clamoroso Che aspettavamo Veramente tantissimo Quindi Almeno buono Direi che se lo merita Detto questo Ragazzi La fase 4 Quindi è Ufficialmente conclusa Questa è la mia T-list Questa è la mia Classifica Sicuramente Non siete d'accordo Però Come sempre Dite la vostra In maniera tranquilla Perché Siamo qui Proprio per Discuterne Iscrivetevi al canale Abbonatevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti